Un mese alle elezioni, Fabrizio Liva è il quarto candidato sindaco di Pesaro. Inchiesta del latte, associazioni di consumatori pronte ad azioni legali. Partita la demolizione dell'ex chief da rudere sul mare, nasceranno 30 appartamenti. Segnalata un'anomala moria di pesci sulla spiaggia fanese di Sassonia. Alla scoperta di Montegrimano Terme con la Magic Montefeltro Sport Week. Buona serata, ben ritrovati al nostro telegiornale. Oggi è mercoledì 8 maggio e questa data ci ricorda che esattamente tra un mese ci saranno le prossime elezioni. Esattamente appunto l'8 e il 9 giugno. Quindi a 30 giorni dalla chiamata alle urne però viene ufficializzato il quarto candidato sindaco di Pesaro. Saranno l'imprenditore alberghiero Fabrizio Oliva e la sua lista civica Spazi Liberi infatti a partecipare alla sfida elettorale assieme ad Andrea Biancani, Marco Lanzi e Pia Perricci. Vediamo. 8 di maggio manca esattamente un mese alla chiamata alle urne dell'8 e 9 giugno elezioni amministrative e Fabrizio Oliva si candida come quarto candidato a sindaco di Pesaro. Lo farà con una lista civica che si chiama Spazi Liberi. Cominciamo intanto dal titolo di questa lista. Come mai questi Spazi Liberi? Spazi Liberi perché è una lista che è stata creata principalmente da dei giovani e quindi ho fatto scegliere a loro, ovviamente concordando anche con me, una serie di tematiche importanti per i giovani e quindi abbiamo veramente lasciato spazio all'immaginazione. Questo annuncio in coda ravvicinato all'arrivo delle elezioni sembrerebbe una candidatura all'astminut, invece è qualcosa di molto ponderato. Già lo scorso anno l'aveva annunciato. Come mai siamo arrivati all'ufficializzazione solo ora? Ma è molto ponderato perché la mia deve essere una candidatura un po' diversa. Io ho l'idea molto chiare, c'è la volontà di candidarmi a sindaco perché ovviamente rappresento delle categorie, al di là di rappresentare delle categorie anche la città ha bisogno di un volto nuovo al di fuori del sistema che governo oramai da decine di anni e l'ho fatto in questo momento. Uno, perché il primo maggio ho presentato l'accettazione alla candidatura da sindaco che è la festa del lavoro. Otto maggio ho fatto la prima intervista e ho annunciato pubblicamente la mia candidatura a sindaco perché mancano 30 giorni delle elezioni. Tre, perché la mia vuole essere una campagna etica. Non voglio giocare sui manifesti, sui cartelloni, su tante cose che i candidati hanno fatto, oramai stanno facendo oramai 10 giorni. Per cui la mia campagna etica sarà molto modesta e molto a contatto con la gente e poco mediatica, nel senso che spenderò veramente poco, al di sotto dei 2.500 euro previsti dalla legge dove è previsto il committente. Naturalmente lei viene da una storia di imprenditoria alberghiera lunga e anche con diverse tematiche portate sempre sui tavoli delle amministrazioni comunali correnti. Questo è lo snodo principale che l'ha portata a questo passo? Sì, questo è uno degli snodi principali, ma la questione principale è che io comunque vivo da sempre a peso, amo questa città, sono partito dal turismo perché ovviamente ci sono molte problematiche legate al turismo, ma ci sono molte problematiche legate alla città. Voglio dire, l'arredo urbano, la bellezza, la pulizia, quindi sono tutte cose che mancano a questa città. La prima cosa che farò sarà quella di dare immediatamente una progettazione per quello che riguarda il lungomare. Noi siamo una città dove il lungomare praticamente risale a 30 anni fa, oramai ci sono città limitrofe che l'hanno fatto per la seconda e terza volta. La pulizia della città e poi ovviamente la movida dove va governata, non va mozzata, ma va governata. Quindi questo cosa vuol dire che ci sarà un divertimentificio anche per i giovani, ma nelle zone giuste. D'altronde quando io ero giovane, adesso fa 60 anni, quindi quando ero giovane, tutti i luoghi del divertimento non erano sul lungomare ma erano alla periferia di Pesaro. Se noi ricordiamo il derby o il caos che sono le nostre discoteche storiche, erano ai margini della città. Quindi nulla vieta che ci si possa divertire, senza andare in Romagna e rimanere a Pesaro. Il 18 maggio presenterete la lista, 29 candidati all'hotel Baia Flaminia, figurano anche alcuni esponenti di Più Europa. Sì, risultano anche alcuni esponenti di Più Europa che hanno deciso di aderire alla mia lista, Più Europa. Ovviamente tutti a livello di rappresentanza personale, ma ovviamente avendo un loro seguito tra gli iscritti e tra i simpatizzanti. E quindi porteranno avanti alcune tematiche particolari, tra cui la più importante è quella della cultura. Abbiamo Pierpaolo Loffreda candidato, che è il candidato più anziano, anche se mio collega di liceo. Abbiamo il portavoce di Più Europa candidato e abbiamo altri ragazzi, altri giovani che fanno parte di Più Europa, che fanno parte della lista. E restando in tema di elezioni amministrative, Luca Pieri ha deciso di dimettersi dalla carica di presidente di Aspes, dopo dieci anni al vertice dell'azienda di servizi pesarese. Una scelta che lo stesso Pieri ha motivato come rispettosa nei confronti dell'attuale contesto, che lo vede candidato al Consiglio Comunale per il Partito Democratico, a sostegno della candidatura a sindaco di Pesaro, mentre Aspes è rappresentanza di 18 comuni soci governati da diversi schieramenti politici. Dimissioni che non sono una scelta obbligata, perché se è vero che esiste un'incompatibilità in caso di elezione, questa invece non sussiste per la semplice candidatura. Ed ora cambiamo argomento, passiamo agli sviluppi dell'indagine del Tribunale di Pesaro sul presunto caso di latte e prodotti caseari adulterati, uscito dagli stabilimenti fattorie marchigiane di Colli al Metauro, riconducibili proprio al gruppo Trevalli. Dopo lo stop della produzione e le dimissioni del Presidente, ora stanno per arrivare le azioni legali da parte delle associazioni dei consumatori. Sta scatenando un effetto domino l'indagine sul sospetto di latte e prodotti caseari adulterati dall'utilizzo di soda caustica per ritardarne il processo di acidificazione. L'inchiesta, partita dalla procura di Pesaro e dallo stabilimento Fattorie Marchigiane, riconducibile al gruppo Trevalli-Coperlat, ha portato infatti ad indagare 9 persone, 3 società e a sequestrare 200 tonnellate di prodotti lattieri e 2 tonnellate e mezzo di sostanze sofisticanti. L'erassicurazione di indagine sul mancato riscontro di prodotti contaminati messi sul mercato non accontenta però le associazioni dei consumatori. Sono infatti pronte class action in attesa dello sviluppo delle indagini, così come l'Unione Nazionale Consumatori è pronta a costituirsi parte civile. Intanto lo stabilimento Fattorie Marchigiane di Coglia al Metauro ha deciso di sospendere la produzione in attesa degli sviluppi di indagine, così come il presidente Gianluigi Draghi ha deciso di rassegnare le dimissioni. Gian Paolo Lizzi è stato nominato come direttore di produzione con incarichi specifici su controllo e verifica dei prodotti. Questa mattina a Pesaro è stata segnalata una fuga di gas in via Fratelli Bandiera nel quartiere di Pantano, non lontano dal cavalca ferrovia. I vigili del fuoco intervenuti ed utilizzata un'apposita strumentazione elettrica hanno individuato che l'uscita di gas proveniva da una vecchia auto in sosta e si è provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Ed ora parliamo di sanità. Una nuova TAC, una nuova risonanza e due nuovi angiografi saranno operativi all'ospedale San Salvatore di Pesaro entro la fine dell'anno. In attesa della partenza del nuovo ospedale di Muraglia, la Regione Marche potenzia infatti la strumentazione dell'attuale nosocomio cittadino con investimenti di 5 milioni e 800 mila euro per i nuovi macchinari e l'adeguamento strutturale dei locali che li ospiteranno. Cantieri in corso che oggi hanno visto il sopralluogo del nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria pesarese Alberto Carelli, insediatosi al nuovo incarico lo scorso 1 maggio. Ruspe al lavoro oggi per la demolizione dell'ex CIF, questo rudere fatiscente che si trova a poche decine di metri dall'istituto alberghiero Santa Marta che dopo anni, anzi decenni di degrado, viene abbattuto per creare un palazzo di 5 piani che ospiterà 30 appartamenti. Come preannunciato la scorsa settimana, è partita la demolizione dell'ex centro italiano femminile, il cosiddetto CIF, degradante edificio all'abbandono da decenni, collocato alle porte meridionali della città di Pesaro, all'intersezione fra via Colbe e la statale, a pochi passi, dall'istituto alberghiero Santa Marta. Ruspe al lavoro per sgretolare le mura di un edificio con 70 anni di vita, trascorsi dapprima come colonia estiva per le giovani generazioni del dopoguerra, poi come casa di riposo e infine come scatola vuota in progressivo degrado, divenuto dimora di scorribande bivacchi. Dopo tanti tentativi di recupero andati a vuoto, lo stabile è stato venduto all'asta a fine 2022 ad imprese edili che provvederanno alla demolizione dell'edificio fatiscente e alla nuova costruzione di una palazzina di cinque piani destinata ad uso residenziale. La demolizione si completerà in due settimane, poi si passerà alla realizzazione di un edificio destinato a 31 appartamenti che dovrebbe essere completato a metà 2026. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Come sempre vi invitiamo a mandarci foto, video, al nostro numero che vedete in sovrimpressione. Oggi vi mostriamo i video che ci ha inviato una nostra telespettatrice che documentano un'anomala moria di pesci verificatasi nella spiaggia fanese di Sassonia. Vediamo di cosa si tratta. Una passeggiata primaverile sulla spiaggia fanese di Sassonia accompagnata dalla sorpresa in attesa dell'impatto con una inquietante moria di piccoli pesci sospinti dalle onde sulla battigia. E quanto segnalato da una telespettatrice di Rossini TV che con video amatoriali sul proprio cellulare ha documentato ieri pomeriggio questa anomalia. Centinaia di alici senza vita sul bagnasciuga in corrispondenza del lungomare fanese all'altezza del ristorante al mare. Sospinta dalle onde, spunta anche una stella marina. Un fenomeno che potrebbe essere riconducibile a sbalzo oscillazioni meteorologiche dell'ultimo periodo ma che presumibilmente andrà verificato con campionamenti delle acque supplettivi a quelli già effettuati in questo mese di aprile. Controlli dell'ARPAM che hanno dato il via libera ufficiale alla stagione balneare dal primo maggio in tutte le acque marchigiane certificando il 96% di balneabilità dell'intero litorale regionale percentuale che arriva addirittura al 100% nelle acque della provincia di Pesaro-Urbino comprese Fra Gabicce Mare e Marotta. Questa mattina il Liceo Marconi di Pesaro ha conferito la prima edizione del premio Ondadoro del Marconi al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzzi un premio che la scuola diretta da Luca Maria Antonio Testa ha istituito in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi per rendere onore agli studenti del Liceo Pesarese distintisi in carriere di prestigio. Il comandante Luzzi originario di Cattolica è stato infatti studente del Liceo Pesarese negli anni 70 e oggi ha tenuto un Alezio Magistralis davanti a 2000 all'unni alla presenza del governatore Acquaroli del prefetto Emanuela Saveria Greco dei vertici di tutte le forze di polizia regionali così come il Tribunale e la Procura di Pesaro. Il nome di Giovanna Renzini compianta capo ufficio stampa della provincia di Pesaro-Urbino scomparsa prematuramente lo scorso marzo si legherà all'albo d'oro del premio letterario nazionale Giucunde Doced Gianni Rodari. La giuria del concorso torinese ha infatti assegnato il premio speciale Testamento di Pace alla sua poesia Pace composta da Giovanna subito dopo la pandemia. Il premio letterario torinese si ispira infatti alla poetica di Gianni Rodari e alla letteratura per l'infanzia settore a cui Giovanna Renzini si era dedicata con particolare successo nella sua carriera. Sarà Cecilia Sala voce emergente del giornalismo italiano la prossima ospite di Incontri Capitali. Come inviata ai reporter la giornalista ha seguito sul campo la crisi in Venezuela le proteste in Cile i casi sociopolitici dell'Iran la caduta di Kabul nelle mani dei talebani ad agosto 2021 e la guerra in Ucraina. Domani, giovedì 9 maggio alle 18.30 la Sala presenterà al teatro sperimentale il suo saggio l'incendio reportage su una generazione tra Iran Ucraina e Afghanistan in dialogo con il giornalista Luca Fabri. L'Ottocento di Fiorenzuola di Focara rivive in una mostra immersiva a cielo aperto per le vie del Borgo. La mostra visitabile fino alla fine di settembre sarà oggetto di uno speciale approfondimento che faremo proprio noi di Rossini TV e che trasmetteremo venerdì 10 maggio alle 21.40. Intanto vi diamo alcune anticipazioni. Fiorenzuola si racconta l'Ottocento svelato una mostra da percorrere da scoprire attraverso i vicoli di questo borgo assolutamente incantato ed è visitabile fino al 29 settembre 2024. Comincia il tutto con la ricerca di documenti d'archivio parliamo del 1800 della loro comune di Fiorenzuola abbiamo voluto con questa mostra quindi portare a conoscenza di tutti i contenuti di questi documenti di questi atti pubblici dei personaggi del XIX secolo che hanno gestito la vita della comunità di Fiorenzuola di Focara in questa circostanza nel corso dell'inventariazione dell'archivio abbiamo trovato documenti anche inediti non conosciuti abbiamo incontrato personaggi che hanno fatto la storia del XIX secolo c'era un bando della regione a cui abbiamo come comune partecipato e abbiamo chiesto di poter sistemare il non ordinato archivio di Fiorenzuola Fiorenzuola a maggio d'anno scorso mi sembra è stato dichiarato uno dei borghi più belli d'Italia e allora abbiamo detto perché no uniamo questa cosa storia turismo cultura poi capitale della cultura cioè più di così quindi cosa abbiamo detto questo è un archivio che per più di 50 anni non è stato visto da nessuno ma anche prima certi argomenti non venivano considerati importanti dagli storici e quindi succede che era un archivio del tutto inedito e quindi un archivio inedito fa gola chi vuole fare della storia comunque far conoscere veramente le comunità di allora come sono diverse come diciamo nell'introduzione l'indole umana è sempre quella per cui alla fine insomma tutto torna ecco dentro gli archivi si scopre la vita la vita delle persone del passato e si scoprono tutte quelle che loro hanno quello che hanno vissuto quello che hanno passato le loro avventure le cose importanti ovviamente i grandi eventi storici ma nello stesso tempo anche la vita assolutamente quotidiana la vita di tutti i giorni e nel caso di Fiorenzuola chiaramente attraverso questi documenti che poi sono relativi essenzialmente al XIX secolo siamo riusciti a immaginarci una Fiorenzuola molto vivace molto piena di vita molto piena di attività un borgo dove c'era una vita intensa c'erano tante persone e tante persone appunto che poi frequentavano questi vicoli queste strade e rendevano vivace e attiva il borgo l'abbiamo voluto raccontare nei migliori dei modi per dare alla comunità del XIX secolo di Fiorenzuola un volto ma anche una voce per questo abbiamo coinvolto gli studenti di SIA di Urbino che hanno realizzato dei grafici d'autore moderni nella loro esposizione che abbiamo voluto esporre nelle vie nelle piazze del borgo di Fiorenzuola abbiamo coinvolto anche l'associazione le voci dei libri veramente una grande esperienza devo ricordare anche il supporto tecnico e le voci che si sono nel frattempo susseguite nella registrazione audio e parliamo proprio dell'istituto d'arte Mengaruni di Pesaro e siamo in chiusura del nostro telegiornale prima però c'è spazio per un'ultima notizia è il 25esimo e ultimo comune della provincia di Pesaro e Urbino ad avere aderito agli itinerari della bellezza di Confcommercio Marche Nord parliamo di Montegrimano Terme terra di confine tra Marche, Romagna e Repubblica di San Marino che ora si promuove con la prima edizione di una settimana di eventi all'aria aperta La settimana dello sport nasce dalla volontà di coinvolgere tutte le attività locali che abbiamo presenti sul territorio cercando di promuovere tutte quelle che sono le potenzialità turistiche di un territorio come quello di Montegrimano Terme che può fare come suo tesoro e l'outdoor può fare come suo cavallo di battaglia la promozione di quelle che sono tutte le attività fisiche qual è la nostra idea è quella di coinvolgere in primis i nostri cittadini proprio di Montegrimano Terme ma chiaramente allargarci alla vallata del Conca la Repubblica di San Marino tutto quello che è il territorio di Montefeltro non perché puntiamo al loro turismo e basta ma perché speriamo che diventino i nostri primi ambasciatori in Italia cioè nel momento in cui un cittadino di Montegrimano come un cittadino di Mercatino Conca o di Carpegna vive un'esperienza emozionante nel nostro comune la racconterà raccontando quello che ha vissuto da noi diventa appunto un nostro portabandiera diventa un nostro ambasciatore di quelle che sono le potenzialità di un territorio così ricco di verde di green in generale dal punto di vista della qualità della vita ecco da lì abbiamo unito quello che è l'altro nostro obiettivo presentare soprattutto alle fasce più giovani tutte le possibili attività sportive che si possono fare l'evento principale della settimana dello sport domenica 26 maggio l'evento di chiusura della settimana che si chiamerà Gran Fondo la via dei Borromeo che è un evento che fa parte di due circuiti nazionali di mountain bike e che al momento ha già 400 partecipanti confermati quindi un evento di chiusura di una settimana molto ricca che coinvolge tutte le associazioni locali e si partirà sette giorni prima il 19 di maggio con tre iniziative tutte nel territorio iniziative a cavallo partite di calcio e un trekking all'interno del comprensorio del Monte San Paolo che è un comprensorio che in questi anni è cresciuto molto con il lavoro di tutta l'associazione e le proloco locali e allo stato attuale conta oltre 30 km di sentieri percorribili sia a piedi in bicicletta che a cavallo Monte Grimano Terme è il 25esimo comune dell'itinerare della bellezza che ha deciso di entrare nel nostro progetto di promozione turistica a tempo scaduto nel senso che non è presente nella guida del 2024 ma è presente in tutte le iniziative di promozione di comunicazione che stiamo facendo è un luogo per noi molto importante perché fa parte del Monte Feltro ma è al confine con la Romagna e al confine con la Repubblica di San Marino con Monte Grimano Terme peraltro noi completiamo quasi l'area del Monte Feltro storico all'interno dell'itinerario della bellezza insieme a Carpegna Marcellata Feltro e Sasso Corvaro manca ancora un altro comune che penso entrerà nel progetto il prossimo anno quindi è un'iniziativa importante per dare vitalità a questo centro che domina la valle del fiume Conca è un centro molto bello che merita l'attenzione anche da parte dei marchigiani che probabilmente non conoscono questo lembo estremo della nostra provincia e allora davvero complimenti a Monte Grimano siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma restate con noi perché tra pochissimo c'è un nuovo approfondimento dedicato a Pesaro 2024 tutte le informazioni che riguardano questo anno da capitale della cultura quindi vi aspettiamo tra pochissimo e poi in prima serata alle 21.20 vi mostriamo la mostra del libro per ragazzi che si sta tenendo a Vallefoglie avete tempo fino all'11 maggio per andare a visitare con i vostri figli questo bellissimo evento che parla di presentazioni di libri racconti corsi laboratori insomma tantissime cose belle per i vostri ragazzi subito dopo invece da Vallefoglie ci spostiamo a Cantiano per mostrarvi quello che è stato il successo di questa edizione della Fiera dei Cavalli domani invece vi aspetto alle 7.20 in diretta su Rossini TV canali 80 in diretta sulla nostra pagina Facebook o la nostra rassegna stampa ed ora ci sono per voi le notizie riguardanti il meteo grazie per essere stati con noi buona serata grazie a tutti